Assessore Basciano, l'anno per Bacoli si è chiusa per il Comune con un grande risultato, dopo tanti anni sono state fatte delle assunzioni, ci racconta un po' anche le emozioni? Certo, abbiamo concluso proprio il 30 dicembre, giusto in tempo affinché l'autorizzazione che ci è stata data da Roma per le assunzioni non scadesse. E' stato un processo complicato che stiamo seguendo dall'inizio dell'anno scorso, l'autorizzazione è arrivata solo il 27 luglio ed in un tempo brevissimo, poco più di 5 mesi, abbiamo dovuto procedere a diverse questioni, stabilire quali figure mettere a concorso all'interno, stabilire quali figure invece fare oggetto di concorsi esterni, avviare in tempi brevissimi concorsi all'esterno, concorsi meritocratici, concorsi che ci dessero figure di rilievo e di forte preparazione perché il Comune di Bacoli ha questa necessità. Ci diceva tra le figure nuovi assunti anche un esperto informatico, un Comune sempre più digitalizzato? Certo, abbiamo assunto per la prima volta a Bacoli un ingegnere informatico, siamo nell'epoca della digitalizzazione e quindi non possiamo più limitarci a delle consulenze sporadiche, c'è necessità di una figura che sappia prendere le redini della digitalizzazione di tutti i procedimenti e ci accompagni in questi nuovi linguaggi digitali che sono ormai diventati la base anche per il nostro Comune, per la modernizzazione del nostro Comune. E dal punto di vista del personale adesso abbiamo finito l'anno, ne inizia uno nuovo, quali possono essere i passi successivi, ci saranno altre novità? Assolutamente sì, non ci fermeremo. Io ho già in agenda lavorare per un nuovo programma triennale delle assunzioni, quindi ragionerò con i capi area e ragionerò con quelli che sono gli obiettivi prioritari che ci stiamo dando per poter trasmettere al più presto al Ministero una nostra nuova idea di Comune e una nostra nuova idea di richiesta delle figure professionali che ci sono indispensabili per organizzare questo nostro progetto di Comune.